Blizza Castello di Cisterna, a Cerra e Brusciano da parte dei carabinieri della locale compagnia. Hanno perquisito diversi stabili nei complessi di edilizia popolare. Rinvenuto e sequestrato un vero proprio arsenale. Hanno trovato infatti, una pistola Beretta 92F Compact completa di caricatore, una pistola calibro 38 pronta a sparare e 55 cartucce special dello stesso calibro, 5 munizioni calibro 9x21 e 4 cartucce calibro 380. In un vano ascensore trovate bombe ad alto potenziale prese in carico dai carabinieri artificieri, armi, ma anche droga con il sequestro di quasi 3 chili di hashish, suddivisi in panetti e 570 grammi di crack. Contemporaneamente a Castello di Cisterna, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta calibro 380 con caricatore e diverse dosi di marijuana pronte alla vendita. A finire in manette un 19enne incensurato del posto sorpreso all'interno di un palazzo. Il ragazzo aveva preso una busta con all'interno 30 dosi tra cocaina e crack, che era nascosta sotto una mattonella di un gradino della scala condominiale. Nella Cisternina, invece, altra droga e anche in questo caso diverse dosi tra crack e cocaina. Trovate ancora a Brusciano parti di auto rubate in due diversi depositi. Nell'abitazione di un 43enne della stessa città i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5.000 euro, di dubbia provenienza, e tre Rolex sui quali sono in atto accertamenti. Ad Acerra ha arrestato un cittadino marocchino, in un magazzino di via Tufo in uso all'uomo, i militari hanno trovato bionde illegali, per un peso complessivo di quasi quattro quintali. Grazie a tutti.